Il notaresco torna alla vittoria interna superando 1-0 la San Benedettese grazie a una gara di grande cuore alla prima occasione e il notaresco a passare in vantaggio al tredicesimo con Romano che di testa insacca l'1-0 su cross di Bartoli. La replica ospite al ventisettesimo con Shiba che salva in due tempi su Cardella dopo il traversone basso di Alboni. Ancora notaresco al trentottesimo e ancora con un colpo di testa di Romano che termina però di poco alto. Ultimo episodio prima del riposo al quarantaduesimo con una conclusione dei venti metri di Torromino che deviata esce di poco. Nella ripresa la Samb inizia subito all'attacco aumentando via via la pressione. Al quarto Torromino si accentra e conclude dai venti metri trovando la parata plastica di Shiba. L'estremo di casa salva poi due volte su Cardella. Al nono con un'uscita a valanga a due passi dalla porta e all'undicesimo respingendo in tuffo un colpo di testa dell'attaccante della San Benedettese. Al ventiduesimo è Angiulli a provarci con un diagonale appena in aria la respinta di Shiba e il tap-in fuori di Cardella. Fino alla fine poi non succede più nulla tranne le contestazioni dei tifosi della Samb alla propria squadra dopo il fischio finale. In questo momento diciamo che non sta bastando, non sta bastando, stiamo dando tanto perché io e ragazzi non posso richiaminare niente perché hanno fatto una settimana secondo me molto importante sotto tutti i punti di vista dell'atteggiamento, dell'applicazione, anche dell'entusiasmo, della voglia di tirarsi fuori. In questo momento magari anche l'episodio ci condanna un pochino e dobbiamo essere bravi, forti a rimanere uniti, compatti e a ingogliare Amaro e soffrire questa settimana per rifarci domenica. È normale che i tifosi sono amareggiati ma come del resto anche noi lo siamo perché vogliamo a tutti i costi venire fuori a questo momento delicato e i tifosi è normale che hanno ragione perché chi ama la Samb vorrebbe portare a casa in qualsiasi campo il risultato pieno e in questo momento non sta bastando, nonostante che stiamo facendo tanto, non dobbiamo disunirci e andare avanti più determinati e più forti che mai. Sì, è passato tanto tempo, troppo tempo, però almeno sono contento per i nostri tifosi che dopo tanto tempo tornano a gioire in casa nel nostro campo qui al Savini. Ci voleva, abbiamo aspettato tanto tutti quanti assieme, abbiamo sofferto tutti quanti assieme ed è venuta questa vittoria contro una squadra, sappiamo tutti la forza della San Belettese, la qualità dei calciatori della San Belettese quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo sofferto tanto, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo finito con 7 under in campo stiamo giocando da un mese senza Bruno, che è il nostro capitano, il nostro play, dove sta giocando Gelsi che è in vita sua, non ha mai fatto il play faceva l'attaccante, adesso fa il play, quindi devo fare i complimenti a loro, a Gelsi e tutti quanti che si adattano stanno mettendo tutto, stiamo trovando un po' di continuità, sia di prestazioni che di risultati e andiamo avanti così.